Il Comune di Molfetta ha dato inizio ad una vera e propria rivoluzione digitale, la prima nella provincia di Bari. Servizi comunali online rivolti ai cittadini. Sentiamo. Addio alla modulistica cartacea e via libera alla innovazione digitale. Il Comune di Molfetta ha dato inizio ad una vera e propria rivoluzione digitale, la prima nella provincia di Bari, offrendo servizi online ai propri cittadini, alle imprese e agli enti terzi, che coinvolgeranno tutti gli uffici comunali e in particolar modo l'anagrafe. Tutti i certificati o le richieste cambio di domicilio e residenza saranno disponibili in tempo reale e potranno essere ricevuti direttamente su smartphone e PC. Per poter accedere ai servizi, attivi anche sulla app Cittadino Digitale, sarà necessario lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Enzo, la forgia responsabile per la transazione al digitale del Comune di Molfetta, è la figura di riferimento che si occuperà di smistare le istanze ai vari uffici, comunali ed esterni, e di rispondere ai cittadini e alle imprese. Un po' è forte la richiesta da parte dei cittadini, ma anche delle imprese, un po' ovviamente la normativa giustamente è diventata, come dire, stringente e chiede sempre alle pubbliche amministrazioni di offrire sempre più servizi digitali. Il Covid ha dato quella accelerata che serviva all'interno della PA per completare l'elenco dei servizi disponibili. Come funziona? Bene, innanzitutto è da tempo che lavoriamo per offrire questi servizi, perché ovviamente si è reso necessario ingegnizzare tutti i processi interni, i processi di back office, dopodiché abbiamo ristrutturato quella che è la nostra rete telematica. Oggi abbiamo connessioni in fibra ottica 300 mega, in modo da offrire servizi interni ai collaboratori, ma anche esterne ai cittadini, tutti i servizi digitali. Abbiamo approfondito, abbiamo dato delle priorità, perché abbiamo verificato in particolare i servizi anagrafici, c'erano code in questo periodo, ovviamente con tutte le problematiche annesse alla pandemia in corso e pertanto abbiamo, come dire, approfondito tutti i processi dei servizi demografici, offrendo al cittadino la possibilità di fare tutti i certificati, ma anche il cambio di residenza, cambio di domicilio e tutte quelle che sono quelle pratiche che prima erano accessibili solo e esclusivamente tramite lo sportello. Come deve fare un cittadino per accedere ai servizi digitali? Per l'accesso ai servizi digitali è necessario il sistema SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che è gratuito per tutti, basta regarsi presso un qualsiasi certification authority, mi viene più spontaneo dire poste italiane, ma InfoCert ce ne sono tantissimi, si ha questa identità digitale, attraverso la quale il cittadino può loggarsi su qualsiasi portale, su tutto il territorio nazionale, da Molfetta, Roma, Milano, insomma tutti, anche quelli che sono i portali a livello nazionale, e potrà con le sue credenziali digitali accedere a tutti i servizi che ogni ente mette a disposizione. Per il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, questa rappresenta una tappa importante che consente a tutto il sistema comunale di entrare nell'era digitale del futuro, offrendo ai cittadini un servizio sempre più efficiente. Tutto il sistema comunale che noi vogliamo innovare, cominciamo da questo importante servizio ai cittadini, che finalmente, cittadini professionisti, che finalmente dalle loro case possono interagire comodamente con gli uffici comunali per quelle che sono le pratiche più quotidiane, certificati, prenotare le carte d'identità, tutto comodamente online. È una tappa importante, grazie anche all'apparato municipale, perché questo è tutto un progetto fatto in casa, quindi importante per dare un miglior servizio ai cittadini nell'era digitale. Vogliamo entrare già nel futuro.